Andiamo a compilare una sezione della domanda, per esempio quella dei titoli generali. Nella casella numero 11 si inserisce il concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o di livello superiore. Io ho superato un concorso, metto sì. Nella casella numero 12 invece si inserisce il numero di diplomi di specializzazione biennali, quelli che valgono 5 punti. Nella casella numero 13 si mettono i diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo, ovvero le lauree triennali, per esempio anche un corso ISEF triennale si mette il numero di diplomi, di questo tipo di diplomi. Nella casella numero 14 invece si inseriscono i corsi di perfezzamento e o master di durata non inferiore ad un anno, purché abbiano 1500 ore di frequenza e 60 CFU. Io ne ho fatti due e inserisco due di questi corsi. Nella casella numero 15 invece sono le lauree quadriennali oltre la laurea che dà diritto all'accesso al ruolo di attuale appartenenza. Io non ho altre lauree oltre a quella di matematica, dunque metto zero. Nella casella 16 invece il conseguimento di un dottorato di ricerca, nella casella 17 la partecipazione agli esami di Stato come commissario Presidente negli anni che vanno 98, 99, 99, 2000, 2000, 2001. Io ne ho fatti due e metto due. La casella 18 invece per le certificazioni linguistiche livello C1 con certificazione che vale un punto oppure senza certificazione che vale mezzo punto ma con la frequenza universitaria. Poi si salva il tutto e dunque rimane compilata la sezione della domanda. Seguiteci nel canale YouTube, faremo altri video al riguardo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.